Buongiorno a tutti, benvenuti a Borgo Libri, sono molto felice di presentare qui il mio ultimo lavoro, che è Soldati di Napoleone, e la frase che potrebbe identificare questo libro qual è? La frase facciamoli tornare indietro nella memoria collettiva, perché questi soldati, questi giovani canavesani soprattutto, che entrarono nella grande armée di Bonaparte, ormai scomparso da 201 anni, sono stati cancellati, non sono grandi generali, non sono grandi nomi, ho tolto qualche grara eccezione, tipo Carlo Botta, altri ufficiali che servirono nell'armée, ma è un libro che incrociando i dati di diversi archivi, sia informatici, sia cartacei, con un viaggio a Parigi abbastanza avventuroso per cercare di capire dove trovare queste tracce, incrociando tutti questi dati esce fuori questo libro, che riguarda oltre 30 comuni della zona e oltre 50 soldati, che nell'apparato meritocratico di Bonaparte si guadagnarono al 95%, la legion d'onore sui campi di battaglia. E quindi Napoleone aveva bisogno di un'élite, era un'élite che non guardava il sesso, non guardava la religione, non guardava la provvedienza.